Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlerò della mia esperienza con il gruppo Shimano Dureis disc idraulico D2, quindi elettronico, R970 che monta la mia Orbea Orca. Andiamo adesso a vedere le caratteristiche principali del gruppo Shimano Dureis D2 R970. Salta all'occhio subito la spiccata ergonomia delle manopole che rende tutto molto più semplice, molto più naturale sia per la frenata sia per l'innesto delle marce. È possibile dotare questo gruppo all'anteriore e al posteriore di uno spostamento sincronizzato che aiuta notevolmente il ciclista nelle situazioni in cui la catena è particolarmente sotto sforzo. I pulsanti sono programmabili nel senso che si può lavorare sulla velocità di spostamento dei singoli rapporti sia all'anteriore che al posteriore. Questo gruppo Dureis D2 è un gruppo ormai arrivato alla sua terza generazione quindi è un gruppo che è stato molto affinato nel tempo e devo dire per onestà che è davvero molto buono e tollera senza lamentarsi, cioè senza quei rumoracci a cui eravamo abituati, tutti i tipi di comportamenti che magari il ciclista anche involontariamente impone al cambio. L'inserimento dei rapporti è preciso ma soprattutto è molto rapido e come dicevo prima ma anche all'orecchio è molto silenzioso, cioè non c'è più quello scricchiolio quindi viene tutto molto naturale e tutto in modo molto pulito. Con questo tipo di cambio Shimano ha voluto comunque continuare la sua filosofia di cambiata sulle manopole al manubrio ed ergonomicamente le cose sono molto familiari a tutti coloro che hanno usato fino a qualche giorno fa anche il classico cambio meccanico. Ma la cosa veramente sensazionale da notare nel cambio Shimano DuRace di 2 di ultima generazione è vedere come sono state livellate, come sono state studiate gli innesti all'interno delle leve. Insomma i corpi delle leve sono molto ridotti, molto precisi, ma allo stesso tempo è difficile sbagliarsi perché come dicevo prima richiama la memoria delle vecchie cambiate meccaniche. Sulla Orca Orbea ho voluto provare la sensazione del cambio sincronizzato Shimano DuRace e devo dire che è una sensazione fantastica perché in questo caso mi devo solo preoccupare di comandare tutto l'impianto di cambiata semplicemente con un dito andando a spostare in alto o in basso la catena sul pacco pignoni. Tutto l'impianto, tutto il gruppo penserà, dato che è sincronizzato in modo automatico e in modo autonomo, a cambiare rispettivamente la corona piccola con quella grande. Capite da soli che questo sistema sincronizzato del cambio Shimano DuRace è fantastico perché alleggerisce di qualche piccola responsabilità il ciclista. Come prime impressioni sono stato molto soddisfatto del funzionamento del cambio sincronizzato del gruppo Shimano DuRace di 2 in quanto fa tutto quello che promette. In sostanza il ciclista deve soltanto preoccuparsi di cambiare i rapporti al posteriore. Bisogna un po' abituarsi perché non è così naturale, però una volta che si è presso abitudine con questo nuovo sistema di cambiata tutto avviene nel modo migliore. Però come dicevo è molto complicato passare da una cambiata naturale, da una cambiata meccanica, a un sistema elettronico in più sincronizzato. La sincronizzazione del cambio aiuta non solo il ciclista a una cambiata più repentina senza preoccuparsi di scarrellare tutto il pacco pignoni, ma aiuta anche la catena a lavorare meglio ed evita fastidiosi salti di catena. Per quanto riguarda l'impianto frenante di Shimano DuRace di 2 che ricorda un impianto a disco e di natura idraulica, io ho avuto la fortuna di provarlo sull'Orbea Orca in condizioni veramente pessime, sia sullo sterrato, strade bianche, sia sul bagnato. E devo dire che per fortuna avevo questo tipo di impianto idraulico che è molto modulabile, molto preciso, ma allo stesso tempo se si vuol dare una bella pinzata perché c'è necessità di pericolo o perché non si può fare altrimenti, devo dire che questo impianto risponde alla perfezione. Per quanto riguarda il mio giudizio, devo dire che è fantastico guidare una bicicletta con un cambio elettronico, in particolare un cambio elettronico sincronizzato, e devo dire che Shimano con il DuRace di 2 di ultima generazione ha fatto veramente le cose in grande. La mia sensazione è sempre stata quella positiva, non ho mai avuto difficoltà nella cambiata, anche se imparare ad usare la sincronizzazione è un pochino difficile, ci vuole un po' per abituarsi, soprattutto quando si arriva da altri gruppi, soprattutto di natura meccanica. Ma la cosa più importante del gruppo Shimano DuRace di 2 è la sua personalizzazione, cioè permette attraverso l'applicazione di andare a personalizzare la velocità di cambiata, il numero di rapporti che si possono cambiare contemporaneamente. Questo ad esempio potrebbe far comodo a molti cronometristi o a molti triatleti che hanno bisogno ad esempio di tutta una serie particolare di cambiata. Insomma, con questo gruppo Shimano dà la possibilità a tutti gli smanettoni di avere un controllo ancora più alto della cambiata. L'unica nota negativa che sono riuscito a trovare sullo Shimano DuRace di 2 l'ho trovata solo e soltanto comparando questo gruppo con il gruppo di pari gamma di SRAM, dove ovviamente al di là della meccanica che più o meno è la stessa, al di là delle sensazioni positive che sono le stesse, una piccola differenza in più SRAM ce l'ha sulla sua ergonomia delle manopole e sulla semplicità di cambiata. Su questo Shimano potrebbe ancora un pochino lavorare, però diciamocela tutta che se nessuno ha mai provato un gruppo SRAM, lo Shimano DuRace di 2 è veramente fantastico e non vedo l'ora di tornare in sella alla mia Orca Orbea OMX con il gruppo Shimano DuRace di 2.